ciao a tutti e benvenuti su digital best probabilmente avete già sentito parlare di casa domotica o casa intelligente è un tipo di casa dove fondamentalmente vengono collegati all'impianto elettrico dispositivi domotici che ci danno la possibilità di programmare monitorare e comandare a distanza ad esempio le luci la temperatura in casa eccetera eccetera nelle mie ricerche ho individuato tre gadget high tech davvero interessanti che insieme possono dare le stesse possibilità di un impianto domotico all'avanguardia senza dover rifare necessariamente l'impianto elettrico e con una spesa molto più contenuta il primo di cui vi voglio parlare si chiama cleaver dog ed è una smart camera wifi da posizionare all'interno della casa questo nome cleaver dog mi fa un po sorridere perché la prima volta che l'ho visto è stato a casa di un mio cliente che ne aveva posizionati alcuni nella sua abitazione proprio per il suo cane un jack russell iperattivo che purtroppo doveva lasciare spesso solo in casa per motivi di lavoro lo controllava dal suo smartphone e se necessario lo sgridava grazie all'altoparlante integrato ed è proprio a questo che serve questa piccola camera wifi a controllare gli ambienti della propria casa da qualsiasi punto del mondo a patto di essere connessi a internet è possibile interagire con le persone presenti in casa salutando ad esempio vostra figlia chiedergli se ha fatto i compiti e nel frattempo vederla sullo schermo del nostro smartphone o tablet ad una buona risoluzione hd è fornito di sistema a infrarossi per vedere al buio il sistema motion detect rileva i movimenti e ci invia un email per informarci di questo e inoltre è possibile anche registrare i video quindi si tratta anche di un ottimo sistema di sicurezza per la casa oltre che di uno strumento col quale possiamo interagire con gli ospiti della stessa persone o animali che siano il secondo gadget di cui voglio parlarvi che ci aiuta a creare il nostro impianto domotico low cost si chiama tp link hs 100 una presa elettrica intelligente basterà attaccarla ad una presa di casa e poi collegarci l'utenza che vogliamo controllare l'hs 100 si connette alla rete wifi dell'abitazione e con l'app dedicata chiamata casa scritto con la k possiamo controllare la presa elettrica a cui è connessa l'hs 100 da qualsiasi punto del mondo grazie a una qualunque connessione internet dall'applicazione possiamo controllare ad esempio il consumo e il tempo di utilizzo di un determinato dispositivo connesso alla smart plug oppure possiamo accendere e spegnere le luci con un semplice gesto dal nostro smartphone e controllarne l'intensità molto interessante è la possibilità di creare diversi scenari e attuarli con un unico tocco come accendere e spegnere tutte le luci o solo una parte di esse accendere solo le luci esterne e via dicendo gli scenari possono essere utili in diverse occasioni ad esempio al ritorno a casa ancora prima di entrare possiamo fare in modo di accendere con un unico gesto la luce del vialetto quella dell'ingresso e la luce del garage contemporaneamente per facilitare il nostro arrivo il terzo e ultimo gadget che vi presento e che completa l'impianto domotico fai da te della nostra casa che vi propongo oggi si chiama ring video doorbell cioè un campanello di casa intelligente che mostra il video di chi è alla porta e non solo si connette anch'esso alla rete wifi di casa e tramite un'app dedicata al nostro smartphone in qualunque luogo ci troviamo nel momento in cui qualcuno suona il nostro campanello possiamo impostare la recessione in tempo reale di un richiamo sonoro dal nostro dispositivo mobile a quel punto è possibile vedere chi c'è alla porta e comunicare con lui attraverso il microfono dello smartphone o tablet che sia potremmo così ad esempio simulare la nostra presenza in casa dare istruzioni al postino per la ricezione di pacchi e lettere comunicare facilmente con un nostro vicino o chiunque suoni al nostro campanello il ring video doorbell funziona anche da videocamera di sorveglianza infatti è possibile attivare il video in qualsiasi momento e addirittura registrare ciò che sta filmando inoltre con la funzione motion detect rileva ogni movimento entro un certo raggio davanti ad esso e impostando la notifica ci invia un messaggio ogni volta che effettua una rilevazione trovate tutti i link per acquistare questi gadget nella descrizione del video come sempre selezionati tra i migliori venditori online e ai migliori prezzi disponibili se ti è piaciuto il video fammelo sapere con un like e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato alle novità di digital best Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.